numero 3538 dei deputati Cristian Iannuzzi ed altri, concernente iniziative volte a scongiurare l'ulteriore aumento delle tariffe autostradali. Il deputato Iannuzzi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a un minuto. Grazie Presidente. Ministro, abbiamo appreso, o meglio lo abbiamo constatato dall'ira dei cittadini che hanno preso l'autostrada in questi giorni, che lei assieme al suo collega Saccomanni aveva autorizzato, con procedure poco chiare, un aumento dei pedaggi autostradali che in alcune tratte superano addirittura l'8%, con un aggravio di costi per le famiglie di circa 87 euro l'anno e aggravi superiori per imprese e autotrasportatori, che già sono sottoposti al salasso dell'aumento costante del prezzo dei carburanti. I rincari sarebbero giustificati dal calo del traffico. Non si capisce allora, Ministro, come mai questo Governo continui ad investire su nuovi corridoi, nuove autostrade e nuovo asfalto. Considerato che questi rincari difficilmente garantiranno dei flussi di traffico maggiori di quelli attuali, le domandiamo quali iniziative intende adottare il Governo al fine di scongiurare ulteriori aumenti delle tariffe autostradali, anche perché, se che i tari rimangono questi, si prevedono nuovi salassi per i cittadini. Grazie. Grazie. Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, a facoltà di rispondere a tre mili minuti. Beh, innanzitutto grazie, signor Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti, sia ovviamente quelli adesso del gruppo 5 Stelle e gli altri quattro che seguiranno su questo tema, anche perché permetterà ovviamente al Governo di rispondere puntualmente sulle richieste dei singoli interroganti, ma anche di sviluppare una risposta che sia più comprensibile nei diversi aspetti. Dico già sin d'ora che credo che anche le commissioni competenti, quelli di Camera e Senato, debbano essere coinvolte non solo per verificare correttamente quanto è avvenuto in questo periodo, ma anche confrontarsi sulle prospettive delle revisioni eventuali delle convenzioni che ci sono. Venendo all'interrogazione dell'onorevole Iannuzzi, vorrei preliminarmente fornire alcuni dati di riferimento, perché forse mi sembra che manchino anche domande poste dall'onorevole interrogante. Innanzitutto la rete autostradale a pedaggio nel nostro Paese si sviluppa per circa 5.800 chilometri ed è assentita a 24 società con 25 rapporti di concessione, ciascuna con una propria scadenza e ciascuna concessione è regolamentata per legge da una concessione e da un contratto. Ricordo che ci sono sei convenzioni, stabilite e stipulate definitivamente dal Cipe nell'anno 2007, che regolano singolarmente o per gruppi i rapporti concessori e concessionari tra lo Stato e i diversi concessionari. Quindi è un sistema molto differenziato e articolato che ovviamente non potrà essere riformato con un unico atto laddove si debba andare verso questa strada. In questo complesso sistema, Autostrada per l'Italia Spa gestisce oltre il 50% corrispondente a 2.850,6 chilometri, ma le restanti 23 società gestiscono tratte con un'estensione variabile da un massimo di 300 chilometri fino a 20 chilometri, quindi con una grande frammentazione delle gestioni. Inoltre, tenuto conto delle modifiche regolatorie intercorse negli anni e nei diversi periodi delle sottoscrizioni degli atti convenzionali, attualmente, come ho già detto, sono sei distinti regimi convenzionari. Possiamo dire che tutti i regimi tarifari in vigore sono riconducibili negli elementi essenziali alla formula tarifaria della Cipe 39-2007. L'aggiornamento delle tariffe avviene quindi con periodicità annuale, secondo le modalità e i termini definiti negli atti di convenzione vigenti. Nei medesimi sono specificati anche le formule, sulla base delle quali viene quantificata la tariffa da applicare all'utenza e l'incremento medio percentuale da riconoscere rispetto all'anno precedente. Cambiare unilateralmente i contratti, come fu fatto nel 2006, comporta gravi conseguenze, anche a livello comunitario. Farà l'altro ricordo che anche in quella occasione lo Stato dovette tornare indietro, rimodificando la norma e rinegoziando le convenzioni. Si tratta quindi di un contesto giuridico molto vincolante. Proseguirò nella risposta, ovviamente, rispondendo anche agli altri interroganti. La ringrazio. A facoltà di replicare il deputato Dell'Orco, che ha due minuti. Grazie, Presidente. Ora, innanzitutto ringrazio il Ministro Lupi, che ci ha fatto un bel elenco delle note del servizio Centro Studi, lo sapevamo già, però le parole non bastano più. Lei oggi doveva prendere un impegno ben preciso di revisione degli aumenti dei pedaggi autostradali, che sono completamente svincolati rispetto al servizio offerto. Lei, tra l'altro, ha avuto pure il coraggio di dichiarare alla stampa di essere molto preoccupato per l'aumento delle tariffe, che sono un peso per famiglie e imprese, quando quei rincari sono stati approvati con decreto proprio dal suo Ministero, o almeno così pare, dato che in realtà è un decreto fantasma e il suo Ministero non ci ha fornito nemmeno il testo, ammesso che esista. Ministro, lei ci deve spiegare perché le dita autostradali osano avanzare richieste assurde e perché il Governo si stende a tappetino nei loro confronti. loro lamentano una perdita di incassi per un calo del traffico e subito ottengono aumenti di pedaggi, mentre invece le mille imprese che chiudono ogni giorno, le imprese che sopravvivono con l'acqua alla gola, a quelle nessuno fa regali. Ci chiediamo perché invece le lobby dei concessionari autostradali possano essere in pratica aziende senza rischio di impresa. Per arginare questa situazione è urgente introdurre sconti per i pendolari, ma soprattutto sostenere le imprese di trasporto, perché altrimenti sappiamo che quegli aumenti ricadranno, come sempre, sui consumatori finali, con aumenti dei prezzi su tutte le merci, dalle mela, l'insalata, i vestiti e così via. È importante iniziare a creare alternative al trasporto merci su gomma, finanziando, per esempio, misure di ferro bonus, incentivando quindi il trasporto merci su treno. Se non vedremo quindi nei prossimi giorni un suo concreto intervento e soprattutto se non vedremo questo decreto fantasma, segnaleremo l'accaduto all'autorità dei trasporti. grazie.